Eee, EEEE, ATTEEE Gino in x ma trafondo con marito Eeee, non ci dò via! Ma proviamo un trotto! Lo sanno fa il confinamento In questa situazione, finiti ad andare incontro e poi taccano che ogni giorno di tre e quattro barri 5 minuti vanno alla chienza avviamo a manà Fuoco col terra! Osimè! Lo fai! Danca lo aiuta! Non riesce a fare la sponda, zona Manolas, testa, rimpallo, Manolas! Sotto tentativa! Presione alta! Bravo Fabio! Perché io, più di una volta, ho detto che fosse un abito... Insigne! In verticale per Osimè! Controlla best! Eeeh! Vittorio Osimè! La piazza subito! Vittorio Osimè! Vittorio! Grande gol! Vittorio Osimè! Vittorio Osimè! Non è comprensibile... Piovi! 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 Non è controllo! Non è orario! Non è controllo! Vittorio Osimè! Eeeh! Non sai no! Hai avuto a scena oggi ed un meno due maggio! Si è rimasto l'aprivo! Vittorio Osimè! Vittorio Osimè se non fa niente... Un numero... Avvicinamento! Perché? Sta a tre cilindri! Io già non ho dato il dubbio! Ma sta a una e mezza! Kulibaly! Palla sul sinistro... Poi! Cerca il tiro... Non aveva buona idea di questo al punto! il primo peccato che gli ha creato un volante la parte sinistra che era sbilanciata nel momento in cui stava impattando la palla e qua tu non andava stacendo qui d'acqua anche lui il cross poi Nandez ancora Beretta è riuscito a non subire gol da un passo Nandez non è riuscito a spingere la palla verso di Beretta non è riuscito a spingere la palla e la palla non è riuscito a spingere la palla Pavoletti ti ho detto tutto ma che palla si è riuscito a spingere la palla ma il micro ma rompa l'occhio conciallo ma che la faccia a te giallo ti faccio un buonio giallo non è riuscito a spingere la palla Nandez terza contro Yusein cross per Pavoletti scontro con Manolas girato di zappa palo prima occasione grande per Nandez 84 1 a 0 Napoli parte Mass 1 Mi raccomawia è riuscito a spingere la palla è riuscito per le grossi controlle darà davvero un uomo che d'orra, darà davvero un uomo che d'orra e non lo fai a sbagliare lui si, da un colpo d'occhio a destra l'ex-bestis poi degli ora, toccato da insigne la stranigola, la stranigola, la stranigola finiamo tu le pregaccia a una sardegna non voglio parlare però già tengo tutto cosa sti padre in davanti capito? ma come si fa? venga c'hai da mazzo che l'hai volesse dicendo hai passato a un petro voglio aspettare che hai stati quattacinque pattadella ma hai già già visto tutto cosa voglio aspettare hai vinto? voglio aspettare i cibili ah Dio passa quando ho andrurato ma c'è la cerce hai avuto la pangarella bravo ma pure ma pure ma giornami maronna mi faccia fa un'altra cosa e ora è la mamma periceto car vicino facile per bene sto per su traversa poi ziricolo la godina fabian ruiz anticipato non è uno sassu non è uno sassu sta frittata è quasi bionda è bionda fittatore è bionda fittatore ma non vuoi che adesso c'è un chiarimento faccia a faccia abitro hai avuto mazzettone a Bergamo ehi ha morito ehi attenzione attenzione c'è un po' che ci ha li prenderemo la ci ha perché mi vanno a stare qui seconda opportunità infine male aiutti caroni fa nessun euro ecco mamma liga liga ma fare un pizzico si mette o liga troppo siamo due 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 c'è mesi sei c'è l good ci è stato più attivo aveva usato troppo le braccia deve essere titolo il scritto che ancora non è un passaggio a cragno non da lui un po' in canna se è un caffè se è un caffè se è un caffè se è un baffone e me gioco contro il Napoli gioco contro il Napoli gioco contro il Napoli ti capi? eh ci fanno 1 euro a martellare l'interino prendo a piccola Rosyman contro la palla larga occhi chiusi palla avanti poi ci pensa prima vengola lo blocca non ci riesce non andammi fermo fermo i'm jeff 1 euro a martellare l'altro la roccia e il passaggio è un po' in ancora un po' in è un po' di avanti il passaggio è un po' di stiamo avanti del mare da ingolanda sembra che non è necessariamente che la palla di vallena torna stanza sicuramente questa godine prima duncan ma poi tutto dietro non riesce più a ripartire duncan alla lenta per una punta secondo la città che non ci si accende ma 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 nel finale il cagliari con il cuore con voglia con questione stavolta anche che ti ho detto che ti ho detto che va il primo tempo finisce un che ti ho detto ecco qua carico 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 viettici a pensieri carico allenatore merda e la convinzione del cala il sipario finisce 1 a 1 da poli cagliari nel finale il gol di night il sorriso squadri semplici voglio dire che solo siete diventuti delle merda se un allenatore sfaccimmo e il merda l'ha detto prima te e hai fatto a cominciare a parlare po 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 tenia a Napoli sino pasticcia e merda tu meretta te la rende se tutti qua tu per me un mio nani non è nata nani nera papilla se ti sfaccimmo la gente i quadri e la scamazzà che hanno già non vuoi che la gente si vieni se sei un allenatore merda se sei un allenatore merda se sei un allenatore merda se siete dipenduti mi schifo